ciao a tutti ragazzi io sono lucia e questo è il mio bellissimo blog oggi andremo a fare una creazione andremo a vedere che cosa succede se metti una mela e l'acqua un pezzo di mela e un po d'acqua poco a poco in bocca io non so che cosa succederà ma incominciamo che si pare oppure no io non lo so ma ci proverò quindi lasciate un bel pollice in su per questa nuova creazione e andiamo proprio allora prima di tutto diamo un morso a questa mela 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 adesso andiamo a prendere la nostra acquona e la vedremo oh mamma mia oh my gosh perché ha perso il gusto io non lo so allora spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo ai 100 milioni di iscritti saluta papà ciao a tutti